Un'escalation di violenza all'interno degli ospedali di Napoli e provincia preoccupante che vede a repentaglio l'incolumità di medici e personale sanitario. Dall'altra parte l'aumento di incidenti stradali e di vittime della strada che da inizio anno ad oggi sono 21. Di queste tematiche si è parlato durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Fenomeni seguiti costantemente dalla Prefettura per la definizione congiunta con le forze di polizia delle strategie di intervento più efficaci e la verifica dei risultati nei tavoli tematici appositamente istituiti. Le aggressioni nei nosocomi sono da condannare e nello stesso tempo bisogna fornire indicazioni più precise ai familiari dei pazienti, ha dichiarato il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Noi dobbiamo stabilire, procedimentalizzare tutti questi meccanismi per far sì che anche le notizie che i medici devono o la struttura ospedaliera deve dare al paziente siano informazioni corrette, tempestive e corrette. L'argomento dell'incidentalità stradale e le misure di prevenzione e mitigazione del rischio sono stati trattati anche nei singoli tavoli di osservazione costituiti presso le dieci municipalità del Comune di Napoli. Per la sicurezza delle strade abbiamo riunito tutti gli enti proprietari delle strade. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a fornire e a prestare la massima attenzione alla sicurezza della viabilità. Ma nel contempo dobbiamo dire che anche qui, come nelle aggressioni, c'è un comportamento irresponsabile da parte di molti.